Lei parla? Ciao Tonno Parlare tu Live Pronto 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 Bravo Ah già parla Faremo Eh sì Cazzo ho dovuto riavviarla Ma che cristiano Madonna sono atterrato sull'acqua Divertente il Tonno Allora questa sera cosa facciamo? Allora tante cose Uno farm di Enderman Anzi Uno nederite Seconda Tuo Allora oggetti nederite Case Farm di Enderman E poi uno spoiler Che faremo più tardi Spoiler Ma si prende Giusto Tonno adettore E comunque le case non sono per noi Ma sono di abbellimento Perché abbiamo La D Si connetta per tutto il mondo Bravo il bro Piegare le cose Dov'è l'ender chest Nella casa di stu Babbalucco Cioè Perché c'è una casa? In qualche senso Allora bucket Penso sia questo Ecco Cibo perfetto Magari prendo due stu Hai capito Marti Sì Cosa? Un po' di cibo Questo shulker ci sta Nella mia roba E andiamo nell'end Che si trova Qua in fondo Eh ci metteremo un po' ad arrivarci C'è tipo un modo per fare un waypoint Vabbè 4.000 2.105 Andiamo Ah ma te non ti sei installato la mod Che ti avevo mandato Quale? Quella lì Che anche Vabbè Se ne frega Tonno andiamo Io partizzo Non l'ho neanche fatto vedere La cassa segreta Non mi interessa il cassa segreta Madonna quando vai veloce Col tridente l'elitra C'è la No è finita la pioggia Che palle Io mi faccio 4.000 blocchi così Hai fatto vedere la mod Che mod? Quella dell'elitra Già ieri La mia passi a scelta Sì però sto vedendo che la connessione sta un po' andando a puttane No dai pighiottano No la live Carica metà di quello che deve caricare Speed test veloce C'ho 10 mega ci credo Che crisi è successo? Io sono arrivato dove trovarti Prego ristabilisci Ok sono tornato a 6.000 kilobyte Cosa? 6.000 kilobyte sono 6 megabyte di upload per la live Sì? E che ci devo fare? Non streamo mai Ultimamente youtube va E anche twitch vanno male Anzi twitch va malissimo ultimamente Vieni Sono già arrivato Sono a 1000 blocchi Te l'ho detto sono a 1000 blocchi Di qua Dovrebbe essere Lo tengo però muto Dovrebbe essere qui vero? Vuoi sapere le coordinate? No So già dove Dovrebbe essere qui 4000 2500 Sono arrivato Ecco Mi vedi? Trickshot sul tonno No Non funziona Io avevo fatto un altro buco Per di qua perché siamo No io avevo fatto un secondo buco Sì Ok Niente robe Sus Dove sei? Ok ora non ho la barrel roll Vieni Allora qui abbiamo questo Non penso di aver preso tutto Capito cosa manca tonno I blocchi per Fare la piattaforma sopra Tipo netherrack Io c'ho Tanti blocchi diversi Cioè c'ho un botto Ah beh allora possiamo usare quelli Se non ti dispiace Allora ho scavato per costruire le case però Ehhh Sei già entrato nel land city? Sono qui bro dove stai andando? Perché nel land city? Ma va che va fatta nel land city Che stai a dire? Ehi Che stai a dire zi? Si va a 100 blocchi di qua Tu come cazzo fai le farm di enderman? Allora droppami un po' di foglie Scusa spiega Spiega come la volevi far tu? No niente niente Mi ricordavo male L'ho fatta tempo Ah ok A 100 blocchi da qua No allora era 200 200 128 128 più 64 192 192 192 Me ne servono altre 8 Le pc Le altre 8 Vabbè al massimo se cado c'è i razzetti E c'ho anche le litre equipaggiate Si appunto Io le ho appena riparate prima E dopo facciamo vedere Che cosa abbiamo Costru Che cosa ho costruito oggi pomeriggio 100 blocchi Dobbiamo andare in giù A zero Ti metto l'acqua e scendi Ah vuoi andare già giù a zero Ah si È bisogna La lava Ce l'hai tu? Lava? Che per fare L'acqua Ah è vero si può fare con quello Hai ragione Vabbè faccio vedere Se non ce l'hai tu No ce l'ho Semplicemente nell'ender chest Eccola Come andava piazzata? Si Come devo piazzarla? Qua E visto che hai anche tu La lava Mettila tu No no Metti l'acqua Quindi L'acqua Sì Sì Devi metterla sopra Cioè non proprio sopra però Ma bro ho capito È al contrario Dobbiamo mettere la lava L'acqua sopra la lava Piazza la lava in un punto a caso Dobbiamo farla scendere Adesso si aspetta che arrivi fino in fondo Vabbè Nel meno Vuoi questo blocco di ossidiana? Raccogliamo blocchi Io realmente Guarda come si fa Si corre Dobbiamo spawnare l'endermite E la La name tag Ce l'ho a casa la name tag Tu ce ne hai una? No io zero In questa vanilla Forse Ci va bene ce l'ho nell'ender chest Perfetto Ne lasci una? No ormai Le faccio così Sì ma me le srubi tutte Che cazzo Questo è mio Quanta distante Ma chi se ne fuori Gli attacchiamo così C'hai sei cuori È vero C'ho cinque C'ho quattro cuori Ok possiamo scendere Penso Non credo Sì mi sa di sì Sì è arrivato Beh ora devi togliere Che genio devi tenere l'acqua Sì Hai ripreso la lava No Vabbè la riprenderai Perché fai un'altra colonna Allora Ancora sta scendendo Posso spaccare la colonna in più Ma è nulla Ci sono quattro colonne Togli l'acqua L'ho tolta Sta scendendo Effettivamente vai velocissimo adesso con sui sneak Sto recuperando la cobblestone per fare il sopra Oh io sono andato a 200 blocchi per Sei già arrivato Sto andando Ho già fatto fuori due stacchi Non è bello Praticamente sei arrivato Allora qui dovrebbe essere finito Dopo ci dobbiamo mettere le fence Dove le fence? Da parte alle fome Mettici quello che vuoi Qualcosa Perché? Ma sulle foglie non spawnano È stata apposta in foglie No Dico Ok sono arrivato Dico Per non farci cadere Tanto vai con l'elitra Che non c'era Che cadi tipo Ma adesso Eh cazzi tu Scendo? Eh non lo so Cosa vogliamo fare Aspetta 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 Rimetti l'acqua Anzi Ormai l'ho tolta Eh vabbè chi se ne frega Faccio io adesso Ma non mangi? Adonno Stai con due cuori Teoria non si dovrebbe più vedere l'isola grande A 12 chunk Perfetto Giusto E da qui comincio a fare la base E dovremmo poi farla la farm Allora qui ci staranno le ceste Qua di hopper Giusto Ti prego non mi far cadere nel vuoto La shulker Perfetto La infiliamo qui Io farei un terzo strato Vieni qui? Sto mettendo le scalette Ok Allora qua è decentrata Allarghiamo uno di questo Ok Qua sarà uno Due blocchi Uno Due Tre Dove ci saranno gli hopper Poi qui dietro verrà chiuso Eh Sei chest Aspetta ora fixo Vedrai come si fixa Ok Tu cominci a fare gli anelli Devi andare fino ad altezza 43 Eh? Sì E quanto grossi sono gli anelli? Eh Un uno E un uno Altezza Sono larghi quanto gli hopper E alti Ogni uno Uno sì Uno no Quindi di solito faccio così Uno Due Pam Uno Due Pam Per settarmi il blocco In cui devo piazzare Ma guarda che si fa una piattaforma enorme sopra Tu come la fai scusami Io gli anelli intendevo quelli di Ah funziona così? Io ho sempre fatto uno strato solo E gli anelli al centro per portare sulla colonna Ah non so Non lo so Dimmi come la faresti tu Che mi interessa Non lo so Cioè non l'ho mai fatta Ho fatto quella piccola bassa No io conoscevo che si va su ad anelli di foglie no? No ad altezza 43 Poi sopra si fa la piattaforma dove spawnano no? Non so tu come hai imparato a farla Far menderman 1.19 Io ho sempre fatto in questa maniera quindi Evito di mettere l'acqua che ci sono i carpet e si rompono Ecco appunto Ecco Li metteremo alla fine Il problema è che l'acqua come fai a piazzarla? Cazzo Ma oh ma non riesco a uscire Allora così Adesso scendo giù Oh questi blocchi vanno levati Ad altezza 43 si è Cioè Così sono ad altezza 42 qua Ehm Ok Quindi Lì ci sarà la base Mi dispiace per questo video che si è tagliata a metà Ma è per colpa di Twitch La live si è tagliata in due E abbiamo perso la parte di contenuto dove buildavamo la farm Ma non l'abbiamo finita Abbiamo solo aggiunto dei blocchi Quindi continueremo da qui Adesso ci divertiamo Allora Fermo la musica che tanto non mi serve Allora quante draptor servono? 8 giusto? 3 6 8 Ok Più un blocco e mezzo No Quindi ci va un blocco e mezzo sempre Perché se no gli Enderman non vanno Non vanno Si fa così Piazzano qua Si avrono tutte Ok E adesso si fa così Ehm 1 2 Qui c'è l'altezza dell'Enderman Quindi ancora un blocco Perfetto No è qua l'altezza dell'Enderman Si ma avevo fatto un blocco più in alto Se no fa danno all'Enderman Eh dico questa è l'altezza dell'Enderman Si Guarda dove sei adesso Appunto Perfetto Devo farla un blocco più in alto Quindi ancora Faccio un blocco più in alto per sicurezza E ho notato Così Poi si piazzano questi blocchi qua Mi devo levare l'armatura Piazz Perché se no faccio danno all'Enderman Piazzo le rail Piazzo questo E adesso niente Devo Oh è già spawnato Madonna Il primo Che culo Madonna E nessuno lo sta vedendo È lì sopra Sì ma nessuno è Enderman Ci sono tre Lo so Lo chiamiamo Fra Succo Giuseppe Succo Giuseppe Succo Giuseppe è bellissimo Non Non posso dargliela Carrello Probabilmente è incazzato con te Giuseppe ce l'hai te Vai Giuseppe Dov'è il centro? Questo o quello dove è l'Enderman No quello dove sei te Quindi si spinge via l'Enderman Si fa così Ah poi vanno Piazza il vetro No Li lasciamo il vetro O lo dobbiamo Ma vedi che non sono attirati Vero bisogna mettere le sbarre Ce l'hai le sbarre? No vero Ferro Ferro Sì ce l'ho qua Mi porto sempre di minerali a presto Aspetta Ne servono Quattro Sei Otto Quindi Aspetta Fermo 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 Grazie No aspetta Quante ne servono Qua ce ne va una Qua ce ne va un'altra Eccoli che si incazzano Perfetto Il suo partito C'è proprio Gnion Puoi lasciar Milender Non ricordo se sotto posso lasciarlo al vetro Non sono più attirati Lo so Si sono attirati No ma Non va Cacchio Cacchio Madonna Bene abbiamo appurato Che funziona Ma per me Va Va con le sbarre Ne puoi pure romperla Lender chest Io non ho bisogno Ma hai visto Lender chest da sotto No però non sapevo Avesse questa texture Carina Ok Te l'ho rubata Però non tutti Vanno dall'endermite No nessuno Perché dobbiamo scendere No Lo vuoi sapere perché Troppo grande la piattaforma No basta togliere le sbarco Si possono togliere Si guarda Certo Tanto non gli fanno niente Ah Basta lasciare quello sopra Una lol Non lo sapevi E sotto e sopra c'è il vetro Sì per questo Sto morendo Appunto Sotto e sopra Aiuto Aia Perché non sono più attirati Perché gli hai messo così tanto vetro Ma quando ci vado il vetro qua in me Aspetta Attento qua Ok perfetto C'ho quattro cuori Broda Poi scendete C'è questo che non è attirato Boh Non si sa Vabbè alcuni sono manco plettici Sì brutto Scendiamo giù e andiamo a provare la fava Adesso Oh madonna santa Sono finito Aspetta La provo eh La provo Io non sono un enderman Com'è Mi sono riparato Tutta l'armato Guarda Guarda lì Madonna Questa sì che è una farm A livello 24 Ci sono full riparato Posso tirare Madonna Posso provare a tirare tipo Un paio di spadate E tu ti sposti un attimo Voglio vedere a livello 57 Quanto si sale velocemente O lentamente No Veramente Ho fatto mezzo livello Comunque tanto per Per quel tipo Questo tipo di A livello 57 Sì è tappo Vado su Sono già 58 E la possiamo ancora ampliare Cioè E sopra possiamo ampliare La piattaforma Sì si può fare Bene direi Direi che la farm È riuscita molto bene Sono livello 35 In 30 secondi Ma io sono già 60 Ed è tanto Sì è bella rumorosa Come fa Per me Per cazzo è stato Crashato Ci vediamo tra poco Quando avrò riavviato Minecraft Ne cascano molti più di prima Sì sì ho visto Allora Cosa vogliamo andare a fare adesso Torno A parte Il video Sono livello 44 Marti Lo so Facciamo un portale Vicino All'end Portale del nether Vicino all'end Vai Ci sono Poche Ender per le Poche 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 Molte poche È già scaricato Da essenzial Questi però Non ci devono essere Allora Torno Vieni in attimo Torno Divertente Molto divertente Aspetta Recuperò 10 10 Diana Perfetto Io andrei A casa Vai Arrivo al 50 Va bene Anzi no Te vai a casa Prendi le coordinate Del portale del nether Quello del villaggio Anzi no Crea Ti do 10 di ossidiana Riesci a ripiazzare La 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 Ender Te la lascio qua Se vuoi No 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 Piazza Piazza No lasciamola qua Una Aspetta La metto in disparte Qua Così che Ok Tieni Ti do Questa Marti Bene Ok grazie Però adesso Piazzala Al villaggio Quella dove c'è la piazza E poi ci farò Voglio la spada O monumento Qualcosa Vabbè Comunque ci faccio qualcosa Prendi le coordinate E me le dai Che io arrivo dal nether Qua Si Che bello L'elitra Divertente Molto divertente Abbiamo un piccolo problema Dobbiamo espandere Allora qua c'è Allora qua c'è il monumento Che abbiamo fatto Durante Of camera Dove lo posso fare Qui Direi che qui È una buona posizione Uno due Così Magari non con legno Il portale Non ho un accendino Aiuto Si vabbè ma non c'è niente L'ho droppato prima No vado a prendere i blocchi Dovrei averlo Allora prima di farvi vedere Quello che abbiamo costruito Che è molto sorpresoso Nuovo aggettivo inserito oggi Nel vocabolario Ci facciamo due oggetti di nederite Che saranno Piccone E piccone Piedini potrei fare Piccone e piedini oggi Dai C'è là che è scappato Sbam E del metto No Piedini 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 Che sono già rinominati Per essere di Nederite gold Perfetto Mentre ora Possiamo andare A vedere cos'è la sorpresa Allora Torniamo alla farm Così Possiamo provarla Ci mettiamo Qui sopra Voilà Abbassiamo L'audio E iniziamo Zunk O no Ok Facciamo partire il raid Così che i signori Spawnano là in cima E aspettiamo Torno So come fixare la farm Che non si rompe più Bisogna semplicemente aspettare sotto Che sparisce la scritta Raid victory E poi funziona di nuovo Tu non me l'hai detto Quando 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 Oggi ti ho detto Che quando l'ho provata Nel server di Eme Ti ho detto Vedi che non mi hai dato L'altro raid Perché si può presto Ah E va bene Ma non l'hai detto Che l'ho detto Sì ma non l'hai detto Che devo Aspettare che Raid victory Sparisse Era in clue Bene Ora dovrei poter salire In teoria Eccoli Bedoman 2 Bedoman 3 Perfetto Ora posso riscendere Aspettiamo di nuovo Ma perché si connettano Sti portali A casa vostra Non capisco i portali Dove è andato il ragazzo Robare i bambini Che mi si blocca Cioè Guarda Torniamo su E proviamo Il raid di livello 3 Vediamo un po' Minchia una spadata Ma dato Bedoman 5 Perfetto Qui direi che Lut abbonda Anzi Ci sono troppi totem Nel senso E anche asce Guarda Sai Ti direi che ce n'è abbastanza Questi li uniamo Li uniamo Dicesti ce ne fosti abbastanza Qua abbiamo degli esmeraldi Che prendo volentieri Perfetto E scendiamo Di nuovo Il bassimo di Bedoman È 5 Giusto Il soffà C'è ancora un raid E poi basta Giusto per Quindi vai in sovraimpressione Proviamo il raid di livello 5 E poi concludiamo l'episodio Perché nel prossimo Non ho la minima Di che cosa faremo Però potremo fare una farm Di qualcosa Le case Non so perché mi abbiano dato Solo Bedoman 3 Adesso Però fa niente Continueremo le case Perché se no Tommy si arrabbia Giusto E Tommy non deve arrabbiarsi Giusto Ti sembra una presa A me piace Via da sto casino E se mi metto l'elitra Magari posso volare Azion Andiamo fino a casa Cazzo Oh cazzo Oh cazzo Sta morendo Aiuto Vabbè ma Cosa abbiamo fatto A far la Farma fa Che senso Cosa abbiamo fatto a fare Di cosa Per i totem Ah ma non ho i piedini Ecco Totem XP Esmeraldi Soprattutto Perché Se ne hai una nel tuo mondo Dovresti sapere a che cosa serve No Facciamo così Ah guardate quanti materiali abbiamo Siamo ricchi E andiamo Dal tonno Con Redigan powder Da regalare Anzi no Mi pure Pure la gunpowder Mi metto nel lander Ceste vaffan Prego Tonno E niente Come fai il villaggio Che idee hai Ok Possiamo fare un altro Da me il tonno Che builda E la pecora Dagli occhi storti E tutto Ci vediamo presto Con un nuovo video Ciao Ciao